salve amici sono a bosco reale un paese del vesuviano di fronte a me c'è il vesuvio che si intravede tra gli alberi sono all'interno del negozio world garden un punto vendita enorme in cui è possibile acquistare statue vase lame gazebi tavoli in marmo ed altri elementi d'arredo per giardino oltre che stufe a pellette e cammini i proprietari di questo negozio i fratelli ametrano mi hanno contattato per realizzare un murales lungo quasi 40 metri il muro è quello laggiù devo dipingere la parte esterna eseguirò un graffito di tipo old school senza tridimensionalità con le auto lines semplici grezze e mentre gli operai riqualificano la zona il mio lavoro procede abbastanza bene direi per mia fortuna ho trovato un ottimo assistente nonno pasquale grazie a tutti 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 grazie a tutti